Salve a tutti, sono Nolgamer e bentornati su tutti gli occhi del Battle Simulator Ragazzi, se seguite il telegiornale, lo sapete molto bene Quest'anno ci sono le elezioni per diventare il presidente degli Stati Uniti di San Marino E Franco sembra essere il miglior candidato e potrebbe effettivamente farcela Se riuscisse a diventare il presidente, nulla lo potrebbe più fermare Con la sua sete di potere potrebbe addirittura diventare papa E da quel momento in poi, voglio dire, se facciamo anche la religione del Franco Questo mondo diventerà un posto orribile Ma per vostra fortuna c'è qui il telone che è riuscito ad assoldare una banda di pirloni dei Caraibi Ed insieme a loro viaggeremo a ritroso nel tempo fino alla preistoria Per fermare tutti gli antenati di Franco e cercare di far estinguere la sua stirpe una volta per tutte Pertanto, come avrete capito, quest'oggi continuiamo la campagna dei pirati Ma ripartiamo per l'appunto dalla preistoria E pian pianino ritorniamo sempre più avanti nel tempo, fino al presente, quantomeno fino al rinascimento Riusciremo effettivamente a fermare gli antenati di Franco prima che inizino a procreare come non ci fossero domani Beh, questa è una piccola tribù, ma chiaramente è una tribù dei Franco, da cosa lo capite? Ma che domande ragazzi? C'è gente che praticamente ti fa due palle così e te le lancia poi addosso Allora, possono contare sui maghi di ossa che saranno effettivamente dei nemici molto pericolosi Se si avvicinano alla nostra squadra Ci sono numerosi capi armati di ascia fatta di pietra Questi non hanno seguito i miei video di Arca, altrimenti avrebbero almeno quella fatta in ferro Qualcuno vuole andare a surfare come non ci fossero domani Allora, è una tribù abbastanza pericolosa Quali pirati ci potranno servire per cercare di sconfiggerli? Allora, è un po' che non utilizzo I pirati che lanciano le bombe Immaginatevi se nella preistoria ci fosse stata veramente gente armata di esplosivi Se siamo fortunati dovrebbero poter lanciare le bombe dalla distanza Eccoli là, perfetto Ancora prima che i maghi d'osso si avvicini Ti prego, dimmi che esplodono per bene Vai, vai, un po' più di mira Ok, non è male Però i capi riscono ad avanzare Eh, vabbè, ok Questo ci è morto malissimo facendo un'ottima piruetta Il resto dei capi però sta continuando ad avanzare verso gli altri Perfetto ragazzi Le bombe hanno cominciato anche a lanciare le palle Eh, ma dai No, non mi tira le palle Ah, maledetto Maledetto Ok, i tizi sono anche esplodi sulle bombe Forse ce la possiamo ancora fare No, direi proprio di no Tizi allontanti Tizi allontanti lancia le bombe Ok, ok, devo dare una mano io No, signore non si avvicini troppo Signore non si avvicini troppo Ah, ah, ah Mi pipichiano No, ok, non mi hanno preso Non mi hanno preso Non so perché non mi hanno preso Ciccio, ciccio Le bombe Lancia le bombe Abbiamo vinto all'ultimo E io credo di essere morto Sì, io ci sono morto malissimo Direi che ai miei nemici è andata decisamente peggio Probabilmente questo è l'unico sopravvissuto Perfetto, ciccio Noi ci vediamo alla prossima battaglia Dannazione Sembra proprio che quella non fosse L'unica tribù preistorica dei Franco Questa è addirittura molto più numerosa dell'altra Abbiamo i tizi armati ovviamente di bastoni Diversi capi con le loro asce in pietra Oh no Adesso hanno anche le lance Che di solito ti tirano direttamente sul pipino Perché quando non hai più un pipino Ovviamente non puoi più procreare Arriva il Franco Ticciula la morosa La moglie La nonne E via dicendo E crea figli di Franco Come non ci fossero domani Questa volta dovremo attaccare pesantemente il nemico C'è anche un mago d'ossa Dannazione Se le lance ci colpiscono Siamo nella M più totale Allora Secondo me possiamo fare una squadra Formata tendenzialmente Da genti armate di fucile Aspetta un attimo I capi potrebbero essere un problema Casomai Possiamo schierare qua davanti Anche un paio di tizi Armati di arpione Che sapete bene Arpionano le genti E poi Un calcio sulle gengive Gli antenati di Franco stanno per scoprire Il potere Di un calcio Sugli zebedei Vai ciccio Vai di calcione Mor calcione Mor Oh porco Cane me li hanno shottati Alla velocità della luce Ok Direi che la tattica potrebbe Essermi si ritorta contro Vediamo un po' se con i fucili Forse forse ne facciamo fuori qualcuno Mor fucili Oh mago d'ossa Mago d'ossa veloce Spara lì Spara lì Ok L'abbiamo preso L'abbiamo anche shottato Ma questi tizi stanno lanciando lance Come non ci fossero domani Forse forse le armature Fatte con i barili Che hanno i nostri pirati Dovrebbero riuscire A parare un pochettino Di colpi veloci Più colpi ragazzi Ok Si stanno avvicinando I tizi armati di lance Ma stanno per parare Oh no Si stanno per fare il chiurlo Ok Ok Resistono Resistono effettivamente Beh più o meno Se ti pilano in faccia Ovviamente no Perfetto Ok Perfetto Perfetto Ne restano pochissimi Ne restano semplicemente tre E fatta Abbiamo praticamente sconfitto Questo villaggio di Franco Signore è stato piacere conoscerla Ma soprattutto è stato piacere Farla estinguere Ok È stata una tattica Davvero molto rischiosa Ma davvero Questi cavolo di barili Riescono a proteggerli Chi l'avrebbe mai detto Ok Prossimo scontro Questa volta ci spostiamo avanti Nel tempo E abbiamo raggiunto Il medioevo Questo è chiaramente Un villaggio di Franco Come potete vedere Perché ci sono già i bambini Che non sono ancora I futuri figli di Franco Ma dato che Franco È un attimino Prono all'incesto Potete vedere che ha generato Dei figli Con evidenti problemi Peluria eccessiva Si piedi e via dicendo Ovviamente il Franco Per adesso Non ha un'armata di cavalieri Ma può contare Semplicemente Sui villici E a quanto pare Ha anche uno spaventapasseri Allora dobbiamo attaccare Probabilmente Da una certa distanza Secondo me È un po' una tattica rischiosa Ma possiamo mettere Un cannone Nelle retrovie In modo tale Che riesca a pigliare Praticamente tutti quelli Che passano dal ponte Potremo mettere davanti Un po' di genti Armati di fucile Mentre invece dietro Dei lanciatori di bombe Se riescono a prendere Effettivamente Quelli che stanno passando Sul ponte Forse forse Riusciremo a fare Una carneficina assurda Perfetto Che la battaglia Abbia Inizio Cannone Mi raccomando Con la mira Non prendere i colleghi Lanciatori di bombe Oh oh Ok tattica vincente La palla di cannone Ne ha sciottati parecchi Però come potete vedere La maggior parte di loro È ancora viva Vai di bombe Vai di bombe Meraviglioso Guardali Guardali Sono finiti direttamente In acqua Perfetto Datevi una lavata Che puzzate Come noi ci fossero domani Allora speriamo Che qualcuno riesca A pigliare lo spaventapasseri Perché effettivamente È l'unità più potente Casomai posso prendere Il controllo del cannone Per cercare di prendere Lo spaventapasseri Là dietro L'ho preso L'ho preso per davvero Perfetto Ok Vediamo di prendere Il resto dei villici Ok Abbattuti anche questo C'è il venditore Di pozioni là dietro Guarda che lo piglio Guarda che lo piglio Fuoco Oh 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 Abbattuto tantissimo Cerchiamo di spostare Il cannone un pochettino Più avanti Non penso mi facciano Troppi danni Erano tutti mezzi Imbriachi Ma come potete vedere Siamo riusciti A sconfiggerli Con stile Questo sembra Praticamente morti Ok La battaglia è andata Molto meglio del previsto Anzi è stata anche Davvero molto veloce Passiamo effettivamente Allo scontro successivo Andiamo ancora nel medioevo Ma ci siamo spostati Nei campi Queste sono ovviamente Le mogli del Franco Come potete vedere Anche in questo caso Sono praticamente tutte uguali Ma pericolosamente Armate di falce Che è un'arma davvero potentissima Che la moglie di Franco Usa contro il Franco Quando torna a casa A mezzo imbriaco E vuole far sponare Un po' di figli di Franco La donna poverina Non ne può più Genera 20-30 figli di Franco All'anno Perché quelli per porca Guardate questa È completamente depressa ormai Ha partorito talmente Tanti figli Che gli ha spolpato Anche l'anima E nelle retrovie Ci sono un pochettino Di figli di Franco Come potete vedere Hanno tutti delle facce da ebeti E si divertono tutto il giorno A correre per i campi Con la cariola E a lanciare le mele Questa volta Cerchiamo di Arpionare le donne E portarle Casomai via Voglio dire Anche i nostri pirati Giustamente Mi rimangono indietro nel tempo E devono generare Delle famiglie Ecco qua Facciamo un gruppo di pirati Armati ovviamente Di arpione Se arpionano le donne In teoria Loro non si potranno più muovere È un attimino Una tattica Voglio dire Ma vabbè i dettagli Ok Abbiamo arpionato Vai 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 Perfetto Legnale come non ci fanno domani Guarda Comunque si ribellano Se riusciamo ad arpionare le cariole Forse riusciamo a fermarle Ok È davvero una battaglia Completamente fuori di testa Però Sembra che la tattica Stia funzionando Signora Non con il culo per aria Mi raccomando Perché di quelli per porca Ok Alcuni dei nostri Sono stati effettivamente Abbattuti dalle cariole Dei figli di Franco Veloce Arpionatemi quella cariola Presto Ok Una delle cariole È stata finalmente abbattuta Ora possiamo cercare Di attaccare l'ultima Guarda Gli vanno proprio così addosso Senza un minimo di rispetto Ok Attaccali Attaccali E finalmente Ce l'abbiamo fatta Guarda che casino E abbiamo dovuto salire Praticamente sopra le loro cariole Ok Ok L'importante è aver vinto la battaglia Purtroppo per noi Non è rimasta viva Nessuna donna di Franco Per generare i figli Con altri pirati Ma vabbè Andiamo avanti Che questa l'ho sudata Anche troppo Oh no Siamo saltati un attimino avanti Nel tempo E come potete vedere Franco è diventato Re di un regno Di imbecilli A quanto pare Signore Come tiene lo scudo lei Questo probabilmente È un parente di Franco Ed è diventato cavaliere Perché è un raccomandato Ma vabbè dettagli E giustamente Hanno messo dietro i preti Per curarli Perché questi tizi Si fanno male In continuazione Ma Franco È stato furbo E ha mandato anche Una squadra di arcieri Per attaccare i nostri pirati Dalla distanza In teoria Ci possiamo permettere Ben tre cannoni Con i quali possiamo Spazzar via i cavalieri Di sicuro E poi possiamo tentare Di attaccare gli arcieri Nelle retrovie Mettiamo ovviamente Un povero Cristo Davanti Che attiri il fuoco nemico Ed in teoria Questa tattica Dovrebbe essere più che sufficiente Veloce ragazzi Sparate con i cannoni Ok E con che mira Ok ragazzi Complimentoni Qualcuno ancora vivo Come potete vedere E cerca di avanzare Ma per il resto Abbiamo abbattuto Senza un minimo di rispetto Gli altri cavalieri Allora Tutto secondo Vediamo se ho prendere Il controllo Di uno di loro Gli sparo io L'abbiamo buttato di sotto Ok Tattica vincente Aspettiamo che si ricarichi No Mi hanno abbattuto Ma porco cane Speravo di far fuori Un pochettino di arcieri Ragazzi La mira Mi raccomando Non la freccina Non la freccina Era anche troppo vicina Spara gli arcieri Spara gli arcieri Veloce Ok Porco cane Quella freccia Era anche troppo vicino Ah ah E' sto solo cannone Spara veloce Oh no Non ce la facciamo Per pochissimo Ma secondo me E' una tattica vincente Effettivamente Veloce Spara Spara Ok Ok Non ci credo mai Nella vita Era effettivamente Una battaglia persa Ormai E incredibilmente Sto povero pirla E' riuscito A vincere lo scontro Wow Ok I nostri pirati Sono molto più forti Di quanto mi sarei mai aspettato E finalmente Possiamo attaccare Il castello Del re franco E ah Aspetta un attimo Ci sono più re franco Di quanto avessi mai immaginato La mamma di questi franco Ha avuto praticamente Tre gemelli Oh mio dio Oh mio dio che casino Non si capisce più nulla Con tutti questi franco Allora Ovviamente Si sono portati dietro Un pochettino Di arcieri E anche una catapulta Oh no Che rottura di scatole Sono due catapulte E un altro gruppo di arcieri Anche da questa parte Ok Questa battaglia Sarà molto più difficile Ma se la vinciamo Riusciremo a conquistare Almeno Il regno di franco Beh è una cosa certa Se vogliamo fare in modo Che franco sia distratto Dalla battaglia L'unica cosa che può riuscire A sconfiggere Il suo ormone maschile E ovviamente una donna Pertanto Mettiamo direttamente Qua ai lati Un paio di regine Dei pirati Se siamo fortunati Il potere della patata Dovrebbe essere più che sufficiente A sconfiggere i franco Visto che le nostre regine Da sole Non ce la possono fare Vediamo caso mai Di schierare Anche qualche lanciatore Di bombe In modo tale Che possono attaccare Alle spalle Il re franco Riempiendoli di tnt Come non ci fosse un domani Ce la faranno effettivamente Le nostre donne A sconfiggere Il potere del maschilismo Lo scopriremo fra poco Oh oh Ma vabbè Ma un colpo sulla patata Dai non si può E vabbè Gli hanno tirato anche direttamente Con la catapulta Ma povera signora Nel frattempo I nostri lanciatori di bombe Si sono concentrati Tutti sui franco Come potete vedere Ce la fanno Non ce la fanno Oddio la vedo un pochettino dura Signore Signore vado un po' indietro Cosa restate Lì finché non avete le bombe pronte Ma sarete scemi Guardate intanto l'altra signora Come potete vedere E da dove Come l'ha lanciata quella palla Ok perfetto Una delle regine È riuscita a distruggere La prima delle catapulte E l'altra signorina Ce la dovrebbe fare adesso Signora veloce E adesso non gli resta che attaccare I tre refranco Che nel frattempo Sono stati distratti dalle bombe Aspetta che ha lanciato una bomba All'ultimo tizio Prima di morire Decisamente non è uno scontro Alla pari Vediamo un po' La prego Signorina non mi deluda Ce la faccia No aspetta I tre contro uno Non vale Dai lancia le bombe Perfetto Poi è saltata per aria E sono ancora tutti vivi Come hanno fatto a resistere A così tante esplosioni Il potere dell'ormone del franco È qualcosa di incredibile Veloci Veloci Oh no E la signorina è caduta Sul campo di battaglia Ancora una volta abbiamo Tre franco Contro una povera signorina Vada vada Veloce vada di bombe Vada di bombe Ok 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 Due franco sono morti No forse un franco solo è morto Gli altri due sono ancora vivi È ancora tutto possibile Ce l'ha fatta Incredibile Ce l'ha fatta Ne ha battuti tre Praticamente Signorina Complimenti Lei è diventata la nuova regina Del castello del re franco Oh mio dio Ancora non ci credo Allora Questa volta c'è stato un problema Con la macchina del tempo E invece che portarci avanti Siamo nel 300 Ante franco Scusate Piccolo errore normale Queste sono ovviamente Truppe Dell'imperatore franco E questo è Il figlio di franco No ragazzi Non sto scherzando Franco ha fatto accusacce Con gli animali E questo è il figlio Che ne è uscito Come potete vedere C'ha un'aria un pochettino Da cretino Ma ho dettagli Allora abbiamo Genti armate di scudo Genti armate di lancia Oh no E abbiamo addirittura Gli arcieri Che lanciano i serpenti Questa cosa non si è mai capita Qualcuno dice che in realtà Stiano lanciando Il pipino Del franco Anzi neanche tanto Ino Ma ho dettagli Allora potremmo provare Una tattica un pochettino Rischioda Visto che abbiamo Ben 4700 monete Nelle retrovie Possiamo provare A schierare Ben 4 cannoni Che spero Concentreranno il fuoco Tendenzialmente Sul franco Tauro Ma dobbiamo ovviamente Distrarli In modo tale Che i cannoni Abbiano tempo Di ricaricare Più volte Pertanto Magari Qui sulle scalinate Perfetto Possiamo mettere Un po' di unità Che attireranno L'attenzione Di tutti I soldati Di franco Anche gli arcieri Con i serpenti Potrebbero effettivamente Danneggiare il nostro gruppo Ma Che lo scontro Abbia Inizio Forza cannoni Forza cannoni Sparate sulle rede di franco Veloce Nel frattempo Come potete vedere Si sono tutti fatti distrarre Dalla unità Che abbiamo messo sulle scale Ecco che arrivano le palle di cannone L'abbiamo mancato Abbiamo preso qualcun altro Ma tendentemente Abbiamo mancato il figlio di franco Però Vedo che il resto delle genti E quanto pare Le palle di cannone Le sentono tantissimo Veloci Però sembra proprio Che il nemico Abbia capito Che li abbiamo attirati in trappola Ok Ne abbiamo pilati due In un suo colpo Gli arcieri Si stanno avvicinando Oh 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 Ste palle di cannone Sono anche troppo potenti Veloci E ma allora siete pirli E voglio dire Ok che non sanno cosa fossero i cannoni Perfetto Abbiamo fatto una doppietta anche qua E poi c'è morto anche l'altro tizio Si sta portando via quel povero Cristo Eh ragazzi Veloci con quei cannoni Perfetto Pigliali Pigliali preso In pieno Occhio Oh ragazzi Dobbiamo assolutamente sparare al franco tauro Spara al franco tauro Presto L'abbiamo preso Ma non è morto Oh 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 no 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 Dammi ancora un po' di tempo Dammi ancora un po' di tempo Parali Sparali Oh porca di quelli per porca Avevamo praticamente fatto fuoco Ma è riuscito a distruggere il cannone Sul finale Secondo me è una tattica che funziona Allora questa volta Provo a comandare io i cannoni In modo tale Da poter decimare prima Le unità più pericolose Dalla distanza Come ad esempio Gli arcieri Porca di quelli per porca E poi possiamo far fuoco Sul franco tauro Occhio ai serpenti No i serpenti no Potrebbero essere un bel problemone Occhio tizio corri Tizio corri veloce Fate fuoco sul franco tauro Prima che sia troppo tardi Ok è bloccato là in fondo Fai fuoco Fai fuoco Si sta ingroppando una statua Non fatelo avvicinare Abbattete il bastardo Presto Ok L'abbiamo battuto Perfetto Restano praticamente Solo un po' di unità Occhio ai serpenti Li vedo ancora che si girano Nell'erba l'alta Oh E finalmente siamo riusciti a vincere Questo pericoloso sconto È stata una battaglia Davvero incredibile Mi sa che saremo ancora Tuttavia Nell'antica Grecia Come potete vedere Questa volta siamo in un campo di battaglia Davvero gigantesco E il buon franco Che è ammanicato con tutti Questa volta Ha chiamato anche Zeus Ma dimmi te Stere divinità raccomandata E per non farsi mancare nulla Ha schierato ovviamente Una grande armata Di opliti Armati di scudo E di lance Tanta gente Che si difende con lo scudo Che praticamente serve Per difendere Zeus E nelle retrovie Anche due balliste Signore che sta facendo C'è Parkinson Ok Il tito al Parkinson Potrebbe essere effettivamente Un grande vantaggio Ho un'idea un pochettino folle Invece che schierare Un gruppo di canoni Nelle retrovie Mettiamo invece In prima linea Un gruppo di capitani Oh mio dio Sono armati di sciabola E anche di pistola Dovrebbe riuscire A decimare La maggior parte Delle unità nemiche Più che altro È lo Zeus Che mi preoccupa Da quest'altra parte Invece Possiamo mettere Un po' di tizi No scusi Lei l'ho visto Che è sponato male Dicevo Un po' di pirati Armati di fucile Che se siamo fortunati Riescono ad abbattere Che riescono ad abbattere I tizi armati di scudo E ovviamente Un tizio armato Di pistola Perché è lo sfigatone Del gruppo Vediamo un po' Voglio dire I capitani dei pirati Sono delle unità Molto resistenti Guardate Guardate il container Abba Praticamente La maggior parte Delle unità nemiche Oh mio dio Me l'hanno preso in pieno Eh ma che sfiga Eh a quanto pare Il tizio con la balista Anche se aveva il Parkinson Aveva una mira Di tutto rispetto Però i nostri capitani Ce la stanno facendo Dai che ce la fai Dai che ce la fai Se evitati Co Maledette baliste Dobbiamo assolutamente Abbattere quanto prima Guarda Guarda Si sono occupati Praticamente di tutte le unità Eh non ce la fanno Purtroppo Per via delle baliste Ma diciamo che come tattica Oh Era effettivamente molto buona Almeno fammi fuori Zeus Fammi fuori Zeus Con la maledetta divinità raccomandata E' incredibile Guarda colpi che si è preso Ma dai Ma poverino Ok ho riavviato la battaglia E questa volta Entrambe le baliste Hanno mancato il colpo Ed in effetti A parte essere Completamente imbriachi I nostri capitani Sono decisamente Ok è ancora tutto possibile Ragazzi Siamo evitati I colpi delle baliste Soprattutto Perfetto Dovremmo riuscire a farcela E vabbè Dai Me ne ha shottati Praticamente due in un colpo Ma allora sei bastardo Eila Alcuni degli uomini Sono ancora vivi Questa volta ho schierato Un paio di tizi armati Di bombe Ok Oh anche no Oh anche no Quello si è preso Una balista in pieno Scusa Signore Porti pazienza Mi deve lanciare un po' di bombe là Aspetta aspetta Evita i colpi Evita i colpi Aggira il nemico Lancia la bombetta Ma perché Ok finalmente la tattica Ci ha ripagato Come potete vedere Sono sempre di tutti Abbastanza capitani Da riuscire A contraattaccare Quelle maledette balliste Ho dovuto riavviare La battaglia 4-5 volte Ma alla fine Ce l'hanno fatta ragazzi Però troppi sudori Oh no Questa volta Anche con i vichinghi Avevamo pure I franco vichinghi Ma mi prendi in giro Guarda che roba C'hanno pure le valchirie E vabbè Genti armate di ascia Hanno pure gli Jarl Oh Già i franco normali Sono bastardi I franco vichinghi Sono schifosi dentro Allora Tattica rischiosa Cerchiamo di puntare Sulla superiorità numerica E schieriamo una marea di tizi Armati di fucile Quelli che mi spaventano Ovviamente Sono i berserker Che sicuramente Si eviteranno La maggior parte dei colpi Pertanto Nelle retrovie Metto un altro gruppo Di unità Che dovrebbe riuscire A far fuoco Tranquillamente Sui berserker Ragazzi Sparate veloci Sparate veloci Non so se avete pigliato qualcuno A qualcuno Ha sparato porca di quelli per porca Ma al sicuro Le Valkyrie poi si sono abbattute Su di loro Ok Il problema è che adesso Dobbiamo aspettare Che le nostre unità Ricarichino i loro fucili Veloci Dai che è una tattica Che può funzionare Spara Spara Oddio E vabbè Ci sono presi 8000 colpi Sti cavoli di vichinghi Assurdo La maggior parte di loro Sono ancora in piedi E in effetti Le nostre unità Sono state praticamente decimate Sul campo di battaglia Mi sa che questa volta La superiorità numerica Non è la tattica vincente E allora Senti Se mi devi far arrabbiare Porca di quelli per porca Mo ti pigli Un paio Di regine incacchiate Con la vita E qua dietro Ti metto pure Un cannone Ok E nel frattempo Che loro mi attaccano Tutti questi qua davanti Il cannone dovrebbe riuscire A far fuoco Sui vari nemici Ecco qua Che avete evitato in pieno Effettivamente le nostre unità La palla di cannone Non so chi l'abbiamo sparata Ma vabbè dettagli Voglio dire Visto che ci sono talmente tante donne Anche noi Dobbiamo mettere Il potere della patata Secondo me È l'unica tattica Per riuscire a vincere qualcosa Ok Mi pare che mi abbiano Abbattuto l'altra tizia Dannazione L'hanno effettivamente abbattuta Mentre invece Questa signorina Non le manda a dire a nessuno Come potete vedere È che lancia bombe Come non ci fossero domani Signore La mira A chi sta sparando lei Devo prendere io Il controllo dell'unità E far fuoco Su quei maledetti Petta petta Stia fermo lì Stia fermo lì Mi sa che ho preso la mia regina No Incredibile Abbiamo vinto Guardate con che stile Io direi che per questo viaggio nel tempo Ci possiamo fermare qua Casomai Continueremo A cercare di far estinguere Tutta la maledetta stirpe Dei Franco Nei commenti ovviamente Fatemi vedere Cosa ne pensate C'è un bel video di una serie E noi ci vedremo Al prossimo franchicidio Ciao ciao